Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa all'unanimità. Si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Nello statuto della regione toscana ci sarà un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. La proposta di legge in prima lettura è stata approvata all'unanimità dall'Aula. La legge parte dalla considerazione, spiega Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che la regione si è fatta da sempre promotrice della cultura della resistenza. Si prende atto del rischio di rigurgiti nazifascisti ai quali purtroppo spesso si assiste. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo statuto inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Si è conclusa la prima lettura in Aula che ha portato alla modifica dello statuto. L'appuntamento adesso è tra due mesi per la seconda lettura. A quel punto la proposta di modifica dello statuto potrà diventare legge di riforma dello statuto e quindi lo statuto della regione toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. Come detto, la prima lettura è passata in maniera unanime. Perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. L'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana. Lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo statuto della regione toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di registrazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è il fatto che abbiamo voluto modificare lo statuto e inserire questi principi all'interno della carta fondamentale della regione toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa. Vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Respinto invece un emendamento del consigliere di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi. Per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma lo abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti, come a tutti appartiene alla radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così stancita nei testi della nostra Costituzione, ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione, per essere compresa a livello globale, andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse, ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. In ogni caso ci siamo chiaramente anche noi posti in una votazione favorevole, cercando però appunto di capire se era possibile sostanzialmente attualizzare un messaggio che serve per comprendere i problemi del presente e probabilmente anche del prossimo futuro. Emendamento che anche secondo il gruppo misto avrebbe meritato una discussione più approfondita. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi, che come dire, devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della Pidale Statutara per un approfondimento ulteriore in commissione. Perché, ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale, credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente, ecco, oggi nel 2022, credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia, certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica. Anche perché, un'ultima notazione, troppo spesso la contrapposizione ideologica dei buoni contro i cattivi, ha condizionato fortemente, fin troppo, anche la vita politica. In qualche maniera, come dire, anche sdoganando un po' certi pregiudizi rispetto a aree politiche che oggi, come dire, si propongono invece come legittimamente interlocutori nell'ambito del panorama democratico della nostra nazione. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e i Pupedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. L'Unione Italiana Ciechi, il suo principale obiettivo è l'integrazione delle persone con disabilità visiva nella società, integrazione che passa dall'istruzione alla ricerca del lavoro. Poi, ecco, abbiamo tante iniziative anche ricreative, distensive, facciamo poi pratiche pensionistiche, varie attività per far sì che la persona disabile visiva sia sempre più integrata e meno discriminata. Ecco, per cui questo premio, ripeto, è per noi veramente motivo di grande gioia e soddisfazione. Gioca sul filo dell'ironia lo spot per il 5 per 1000 dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Prato, premiato a livello regionale dal Coricom e dalla Cesvot. Chiacchierando però tutti insieme anche con l'Unione è venuta fuori l'idea, cioè ci voleva qualcosa che potesse colpire l'immaginario e far fermare le persone. Politically correct forse non serve quando vuoi arrivare diretto. È il premio La Toscana che fa bene, sottolinea il presidente dell'Ecoricom, che ogni anno vuole valorizzare la comunicazione sociale. È un lavoro straordinario. In 40 secondi sono riusciti a raccontare le emozioni con grande spirito autoironico di coloro che vivono questo problema, questa disabilità, ma che anche offrono un'opportunità per riflettere e per sostenere chi si impegna in questa direzione. Quindi siamo molto contenti di premiare l'Associazione dell'Unione Italiana Ciechi di Prato. Pensiamo che la comunicazione sociale sia da sviluppare sempre di più, perché in mezzo a tante notizie brutte ci possa essere anche la possibilità di dare delle notizie belle che possono servire al cambiamento anche della società e dei comportamenti della società. Il compito della politica è quello di abbattere le barriere che ci sono ogni giorno. Questa iniziativa è voluta fortemente dal Corecom, da Enzo Brogi, che ringrazio, che ha un titolo stupendo, la Toscana che fa bene, mettersi al servizio degli altri e qual è la migliore comunicazione sociale per raccontare la Toscana che fa bene. Sono orgoglioso della scelta che è stata fatta. È un video stupendo che racconta in maniera dolce, garbata, ma con grande sarcasmo e ironia come anche chi è senza vista partecipa alla vita collettiva della nostra comunità con grande forza, con grande impegno. Il Consiglio regionale ha approvato le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica modificando la precedente normativa risalente al 2015. Il provvedimento spiega il primo firmatario della proposta di legge. Il consigliere Andrea Vannucci del PD punta a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età e ai diversi ambiti di riferimento da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato. È una legge che mette il focus sulla promozione dell'attività fisica del movimento e che mette il focus sul tema della prevenzione, il puntare sull'invecchiamento attivo. La nostra e la regione tra le apripista rispetto al tema dell'attività fisica adattata l'obiettivo che questa norma si pone è di estendere la platea delle persone potenzialmente interessate. Quelle persone con fragilità croniche, penso a titolo d'esempio assolutamente non esaustivo a persone con diabete, persone dializzate, persone trapiantate che avranno grazie a questa norma protocolli regolarmente aggiornati pensati apposta per la loro difficoltà e lo avranno evidentemente sotto casa perché il meccanismo che funziona è il meccanismo dell'attività fisica adattata, dell'esercizio fisico adattato che ha dimostrato in questi anni di essere capace di raggiungere capillarmente ogni punto della nostra regione. Il provvedimento è passato con voto unanime dell'Aula. Lo sport fa parte di quelle attività, di quella parte della vita umana che deve essere promossa perché oltre a essere un beneficio per la salute è anche un momento di comunità, di socialità di cui abbiamo sentito molto la mancanza in questi due anni di pandemia. La promozione dello sport quindi deve passare anch'essa attraverso tutti gli strumenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione. Promuovere lo sport è uno dei principi fondamentali della nostra legislatura favorire che una legislazione possa migliorare, favorire le società di gestione che hanno in gran parte dei casi la gestione degli impianti così come le amministrazioni comunali nel contempo finanziare e trovare risorse sono dei principi fondamentali che devono aiutare per quanto riguarda la regione toscana ogni iniziativa di sport. Noi abbiamo di fronte a noi circa il 60% dei cittadini toscani che praticano sport e c'è un 40% che non lo pratica, sono tanti bambini, ragazzi e ragazzi che lo fanno, bisogna incentivare e sostenere per questa modifica legislativa va in questa direzione, era un impegno che avevamo assunto. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione proprio perché c'è stata un'animità fin dall'inizio della discussione riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che se non affrontate in tempo potrebbero anche diventare gravi. Diciamo che questo è un allargamento a quella che era una legge che era stata istituita nel corso della scorsa legislatura dall'allora Presidente Rossi che riguardava soltanto la fascia delle persone, degli anziani. Adesso il collega Vannucci l'ha voluta allargare a quello che è anche a tutte le altre persone di qualsiasi età è un po' limitata perché secondo il mio punto di vista avremmo dovuto andare a vedere anche quelle che sono poi dopo le necessità per poter fare l'attività fisica perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che devono essere messi a disposizione per cui mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga soprattutto in commissione. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo di molto più centrato e di dare delle risposte. Questo è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica però non si parla né di impianti, non si parla di progetti, non si parla di niente per cui io la voterò, noi la voteremo favorevolmente perché comunque si tratta di attività fisica, è un primo passaggio aspettiamo poi dopo anche quello che succederà alla Camera per dove questa modifica della legge per quanto riguarda addirittura lo sport è stata portata all'attenzione prima del Senato e poi della Camera insomma ci sono un po' delle cose che secondo me bisognerebbe più approfondire per quanto riguarda il mondo dello sport in generale perché credo che abbia una valenza e incida molto in quello che è l'attività e la vita di tutti noi cittadini. iscriviti al nostro canale Grazie! Grazie!